Oggi sono andati tanto gli yogurt e i formaggi più freschi. C'è gente, c'è un buon passaggio. Sono veramente contento di essere qui e anche dalla risposta del pubblico. Di solito la fiera di San Matteo c'è sempre pioggia, quest'anno è proprio ottima. Una giornata fuori stagione, comunque ce la godiamo. Un'edizione da ricordare. L'antica fiera di San Matteo a Feltre ha fatto il pieno di consensi tra gli oltre 50 espositori, tutti produttori del territorio, come tra i circa 10.000 visitatori che sin dalle 9 della mattina si sono accalcati tra Largo Castaldi, Via Roma, Piazza Isola e Via Campogiorgio. Complice una giornata dalle temperature primaverili, la ventesima edizione della manifestazione ha saputo coinvolgere anche i più piccoli grazie a un ricco programma di spettacoli e appuntamenti teatrali itineranti. Protagonisti assoluti della manifestazione sono stati frutti autunnali della terra bellunese e i loro lavorati, Largo dunque a zucche, fagioli, miele, cavoli, noci, castagne, formaggi, yogurt insaccati, dolci, vini, in un tripudio di colori e sapori. La manifestazione, come da tradizione, è stata anche occasione per una riflessione sulle prospettive del settore produttivo. Il convegno, svoltosi sabato al Museo Dio Cesano di Feltre, si è concluso con la consegna del premio Giusti al Consorzio di Tutele a Morone e Castagno del Feltrino. Dedico questo premio al Presidente, quello che ha fondato il Consorzio, Danilo Parenza, che è stato l'ideologo che nel 1996 ha costituito insieme a altri soci del territorio del Feltrino il Consorzio di Tutele a Morone e del Feltrino. Grazie a lui abbiamo potuto praticamente recuperare circa 600 piante che oggi a distanza di 25 anni ci ha permesso di portare qui il Morone del Feltrino con piante che hanno più di 200-300 anni.